Il primo passo che faccio quando comincio a disegnare una tavola è prendere la mia sceneggiatura. Nel mio caso non è altro che le battute dei personaggi messe in successione di come avvengono le cose. Di solito io le scene le immagino già nella mia testa mentre scrivo, perciò a meno che non devo ricordare una cosa in particolare, non mi segno nel dettaglio cosa accade, se non cose davvero importanti. In genere scrivo cosa succede in generale nel capitolo o nella scena che sto scrivendo. Ovviamente questo è il mio metodo, come ho già detto è un po' strano, ma finora mi sono trovata bene così. Se siete bravi con le sceneggiature scrivere nel dettaglio è molto meglio ovviamente, anche se comunque ci sono autori che per esempio fanno direttamente lo storyboard, senza passare per la sceneggiatura, quindi dipende molto da come vi trovate meglio voi. Mi divido sommariamente il contenuto che sarà in ogni tavola e poi prendo in mano il mio fidato quadernino. Ne uso uno nuovo per ogni libro che scrivo, c'è appunto tutte le idee, le collezioni, le reference che uso mentre sono in fase di ideazione del libro, ma soprattutto lo uso per realizzare i thumbnails. I thumbnails, che io faccio a mano perché mi trovo più comoda così, servono per vedere sommariamente quale sarà la suddivisione della tavola e quindi della regia che voglio dare alla scena. La suddivisione delle vignette, dei balloon e di ciò che accade in ogni scena, in pratica, sono sempre molto brutti e molto abbozzati, serviranno solo a me per avere un'idea generale dello storyboard vero e proprio. In questa fase tengo sempre a portata di mano qualche fumetto che mi piace o che so avere una regia o uno stile simile a quello che vorrei dare alla mia storia. È molto utile perché ci può dare nuovi stimoli, nuove idee, per dei layout in una regia diversa e per non rischiare di fare tutte le tavole uguali. Un errore molto comune e che anche io ho fatto tante volte è usare i layout troppo simili di pagina in pagina, troppo simili tra di loro, senza variare tanto, rischiando spesso e volentieri anche troppi primi piani. Quindi tenerci un fumetto che ci piace sotto mano può essere utile per avere nuovi punti di vista di tanto in tanto. Dopo che ho scelto tutti i layout delle varie tavole comincio a realizzare lo storyboard vero e proprio. Prima di tutto inserisco i testi. I dialoghi sono una parte molto importante e vanno inseriti prima di cominciare a lavorare per capire quanto spazio occuperanno all'interno della tavola e di conseguenza se è necessario modificare le vignette o aggiungere o togliere pagine. In pratica bisogna considerare il balloon come parte integrante del disegno e lavorare poi di conseguenza. Quindi una volta completato l'inserimento dei testi e la creazione dei balloon, sistemo la tavola seguendo i thumbnails che mi ero disegnata in precedenza. Tutto questo lavoro richiede quasi più tempo che realizzare i disegni veri e propri. Difatti a disegnare ci metto quasi meno tempo che non organizzare tutte le tavole. Però è davvero necessario sia per creare una storia coerente che per rimanere all'interno del numero di pagine richiesto dall'editore. Poi ognuno ovviamente ha i suoi metodi anche più semplici di questo ma come ho detto all'inizio io sono una persona piuttosto organizzata e tendo a metterci molto tempo oltre che ad avere un metodo un po' complesso. Però essendo io personalmente un po' carente nella narrazione e soprattutto nella capacità di scrittura mi è davvero molto utile procedere così. Dopodiché passo ovviamente ai disegni. In questa fase di storyboard non sono precisi al 100% perché devo realizzarli velocemente nel caso poi dovessi correggerli. Cerco comunque di farli il più precisi possibile perché così risparmio tempo nella fase di matite definitive e di inchiostrazione e anche per comodità nel farlo leggere poi all'editor che altrimenti non capisce niente. Ovviamente i disegni possono essere molto meno precisi di così. Io come ho già detto li faccio in questo modo perché mi trovo bene poi in fase definitiva o meno lavoro da fare. Per i disegni mi faccio aiutare ovviamente dalle reference. Su Pinterest ho creato una bacheca con tutti i mood o le pose o i vestiti che possono tornarmi utili per le mie storie. In questo caso Calypso sta facendo autostop per andare a un festival musicale e perciò ho cercato qualcosa che potesse richiamare quello stile. In questa scena poi dovevo disegnare un'auto, grande cruccio per molti disegnatori. Mi faccio aiutare da quest'app sempre sull'iPad che si chiama Car Tuning 3D perché posso vedere un modello di auto da diverse angolazioni. In genere poi importo la foto su Procreate e cerco di modificarla prima di tutto ricalcandola per non sbagliare troppo le proporzioni o lo stile o alcuni elementi dell'automobile e poi l'adatto alla scena e l'angolazione che ho in mente. In questo caso per esempio tenendo le dimensioni precise dell'auto si tagliava completamente il volto del personaggio, perciò ho tenuto il modello come riferimento ma cambiandolo un po' a mio piacimento. E sì, in realtà tutti gli autori ricalcano sfondi o oggetti difficili se serve, un po' perché ci manca sempre il tempo per stare dietro alle consegne e un po' perché se la scena è ambientata in luoghi realistici è difficile ricrearli da zero perfettamente uguali, anche avendo delle reference. In ogni caso l'importante è metterci sempre del proprio e modificarla col proprio stile, ma soprattutto modificarlo a favore della tavola e della storia che si stanno realizzando. Infine di solito aggiungo una scala di grigi per aiutarmi a capire meglio come voglio che venga la tavola finale e aiutarmi a percepire meglio i vari piani. Ecco quindi la tavola finita pronta per essere mandata in correzione all'editor. Come vedete la lettura deve mantenere uno stile di lettura coerente e scorrevole. Ogni elemento della tavola è utile e importante per questo, dalla posizione dei balloon alle pose dei personaggi. In questo caso infatti la lettura segue un percorso prestabilito che abbiamo creato usando gli elementi all'interno della tavola. Una volta approvato lo storyboard dall'editor è ora dell'inchiostrazione del colore e voilà, la tavola è pronta per la stampa. Ovviamente poi c'è un ultimo passaggio, ovvero quello della grafica che dovete realizzare in collaborazione con i grafici. Nel caso di BAO per esempio il lettering viene eseguito in seguito, perciò invierò un file con i balloon su livelli separati e senza il testo visibile come richiesto dai grafici. Vi consiglio sempre di chiedere a loro prima di cominciare a impostare le tavole per sapere come impostare i file, quindi dimensioni, colori, bordi, margini eccetera eccetera e per sapere come preferiscono avere i testi. credetemi, questa cosa è davvero molto utile perché così non rischiate di dover rifare i margini di alcune tavole o di avere problemi poi nel momento in cui si andrà a impaginare per la stampa. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, se è così iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like e se volete seguitemi su Instagram. Ciao!